Quale ha il significato della festa quest'anno? Il significato è sicuramente la ripartenza. Ripartenza da che cosa? Ripartenza da una sconfitta che ci ha visto soccombere sia nell'amministrazione provinciale che nel Comune di Cremona, oltre che altri comuni nella provincia. E allora da qui noi pensiamo di dover ripartire ascoltando le persone, ascoltando la gente, come si suol dire, ascoltando i bisogni delle tanti frequentatori che verranno a visitare la festa, trovando momenti di confronto con i due candidati, Corrado e Torchio, con i nostri parlamentari, con personaggi magari più conosciuti sul livello nazionale del Partito Democratico e non solo per dire, bene, oggi siamo all'opposizione, come si deve fare un'opposizione in un'amministrazione governata bene dai nostri esponenti e questo è un po' il senso di quello che dovremmo interrogarci per cercare non tanto, perché è indispensabile l'analisi, ma soprattutto per il rilancio del Partito Democratico in un contesto decisamente cambiato, in un contesto dove noi siamo all'opposizione, dove altri sono stati chiamati a governare e noi saremo lì a incalzare sulle necessità del territorio, della città e allo stesso tempo fare le nostre proposte, sapendo che non è certamente come stare al governo, ma io credo che il Partito Democratico da qui deve ripartire, facendo un'analisi seria, profonda, franca, senza infingimenti, ma allo stesso tempo non ci sono colpevoli o capi spiatori da ricercare, c'è solo da ricostruire, da costruire un partito, abbiamo anche il congresso alle porte, quindi anche durante la festa inizieremo a discutere di queste cose.